Colori Powerful per vivere un'estate energizzante, anche la moda ricarica le energie, indossare un vestito colorato fa bene all'umore, fa già bene agli occhi camminare lungo le vie del centro storico di Modena, le vetrine regalano gioia, l'estate 2021 sa di fiori e frutta, dei colori della natura, si va dal giallo energizzante al rosa acceso, è un inno all'allegria con colori vivaci, audaci e brillanti. Tanto colore e tante proposte per questa estate, ma Francesca che cosa andrà? Allora, quest'estate tantissimo colore, giustissimo, tanti abiti lunghi, tanti tessuti freschi e anche tanti abiti corti, ci saranno tutti e due e potendo ritornare ad avere una vita più mondana, con cerimonie e tutto quanto, ci sarà tutta la linea degli abiti eleganti, lunghi, a fantasia, con sopra abbinate le varie giacche, ci saranno anche gli abiti corti e tanti taillere anche, dove ci sarà la rivisitazione del taillere tradizionale che continua a esserci in tessuti fluidi e leggeri, con varie gambe di colore, ma anche scemisi e lunghi, aperti, con sotto pantaloni larghi, stretti, top, maglie, quindi sì, quest'estate non ci faremo rimancare niente. Il tappo immancabile? Ah, sicuramente una cosa coloratissima, sia come giacca ma anche un bello chemisier in un tessuto leggero. Accanto al colore, la moda per l'estate 2021 punta molto sugli accessori, fular, cappelli, scarpe, borse, occhiali da sole, andiamo allora a scoprire i must have di questa stagione. La cosa più importante sono gli Chanel e anche i decolletè che in questa stagione impazzano, infatti sto lavorando tantissimo con gli Chanel da abbinare a tutti quanti gli outfit sia un po' più eleganti che più sportivi. Poi, andando verso l'estate, ci saranno i sandali, come al solito, ma sicuramente ciabattine e anche teppe. L'altra cosa importante che non voglio assolutamente dimenticare sono gli stivali, perché quest'estate si vedranno anche in agosto al mare gli stivali morbidi da usare con i vestitini molto sbarazzini. E per lui invece? Per lui invece, come ormai anche già dall'anno scorso, i moccassini spopolano, infatti l'uomo preferisce il moccassino alla scarpa lacciata classica, che è sempre una scarpa sempre molto sexy da uomo. Oppure la ginnica, che è quella che non può mancare, o la novità un po' di quest'anno, la Clarke ha proposto la vecchia Sebago. Noi, di Ottica dal Passo, siamo a Madena da novembre, prestiamo particolare attenzione e cura ai dettagli dei nostri occhiali e soprattutto innovazione. Lindbergh offre una fantastica ampia gamma di modelli da vista e da sole in diversi materiali, titanio, corno, metalli preziosi e legno pregiato. Inoltre abbiamo la nuova collezione di Tom Ford, con volumi importanti e da uno stile contemporaneo. La loro particolarità della nuova collezione è il fantastico gioco versatile di un occhiale da sole e da vista grazie all'effetto calamitato delle nuove clip Tom Ford. Modo è un'azienda italiana di materiali leggerissimi e in titanio, un mix tra acetato e eleganza con titanio, mentre la collezione Bulgari, occhiali da sole e occhiali da vista per la donna elegante e esigente con un gioco di diamanti e cristalli laterali. Grazie a tutti! Grazie a tutti per aver guardato il video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!